Da quest'anno Sindaco e i ragazzi potranno usufruire in maniera del tutto gratuita i campi da golf? Sì, oggi siamo ai circuiti ciclistici di bello sguardo, un impianto sportivo straordinario con delle caratteristiche uniche per cui è davvero importante parlare di golf. Tutto nasce durante la festa dell'olio a novembre a Cavriglia, quando Daniele Tognaccini, il responsabile di Milan Lab, un amico carissimo residente qui a Cavriglia, propose di promuovere lo sport attraverso delle iniziative anche gratuite. Lo sport fa bene a tutti noi, fa bene ai nostri ragazzi, allora noi abbiamo raggiunto un accordo con il mini golf di San Cipriano, è un impianto straordinario nel quale oramai puntualmente ogni anno vengono svolte iniziative di carattere nazionale ed europeo per far fare quell'attività sportiva ai ragazzi sotto 12 anni gratuitamente. Quindi è una bella opportunità che come amministrazione comuniale vogliamo concedere a questi ragazzi.